Come tradizione il giorno dopo la Pentecoste, Rio Maggiore festeggia al santuario di Montenero il ricordo delle visioni che la pastora fortunata del paladino ebbe in quel luogo per spronare la preghiera e la costruzione del luogo di culto. Molti fedeli che hanno raggiunto il santuario da cui si gode uno splendido paesaggio sulle cinque terre, meta di escursionisti. La celebrazione solenne questa mattina alle 11 presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti alla presenza dei bambini della prima comunione e dei loro genitori. Il Vangelo delle Nozze di Cana ha dato spunti di riflessione e Maria ad indicarci di fare ciò che il Signore ci dirà prevedendo e anticipando i nostri bisogni e le nostre necessità. Non sempre però il nostro atteggiamento si adegua a questo insegnamento e alla richiesta di aiuto per i nostri bisogni si associa spesso anche alla soluzione che richiediamo secondo una nostra visione terrena. Maria ci chiede di pregare, presentare le nostre necessità ma anche di lasciare agire il Signore secondo la sua volontà. Dovemo pregare lasciando però le mani di Dio libere. Non possiamo preconfezionare le risposte delle nostre preghiere altrimenti rischiamo di dire Dio non mi ascolta mentre invece ascolta e ci vuole bene e ci viene incontro anche tutte quelle volte che apparentemente non ci dà quello di cui abbiamo bisogno o meglio che noi pensiamo di averne bisogno perché lui ci risponde come padre. Ecco perché Maria ci insegna a pregare come figli per imparare ad ascoltare Dio che ci risponde come padre e allora lei ce lo insegna nella concretezza non dice fammi del vino perché non ne hanno più ma dice non hanno più vino dopodiché scegli tu quello che è giusto fare. Può essere giusto che lui dica facciamo altro vino e un banchito di sposi è bello. Può darsi che lui dica no no per carità ne hanno già bevuto troppo è meglio che non ce ne sia più. E' lui che deve decidere la risposta e Maria come mamma ci insegna a pregare lasciando a Dio le mani libere perché ci possa rispondere come padre. Al termine della celebrazione il parroco Don Giordano Biso ha ringraziato il vescovo per la sua presenza ricordando gli eventi che hanno dato vita al santuario. In questo santuario eccellenza tutto è iniziato perché la pastora fortunata del palladino un giorno vide pascolando il grece su questo colle non la madonna ma una chiesa edificata l'altare e preti che celebravano la messa e la sua presenza qui la presenza anche degli amici sacerdoti in questo giorno conferma la visione di fortunata e la sua presenza in quanto vicario di Cristo successore degli apostoli è il segno della veridicità di quello che fortunata quel giorno vive. La benedizione ha concluso la celebrazione resa solenne dal coro parrocchiale di rio maggiore e la foto di gruppo dei bambini col vescovo come ricordo della giornata.